e i craft piace a tutti come mcdonald come i soldi e le modelle è buona questa settimana con le squad battle sono arrivato fuori classe 2 quindi un ultimo risultato dovuto andare a darci un bel po quindi abbiamo due pacchetti mega oltre a tutti i soldi che mi sono fatto che è veramente tanto che andremo ad aprirci ovviamente per iniziare questo video vediamo se qualche bandiera mi si viene data se mi si viene data assolutamente non il primo pacco mamma mia rojo e santos cioè ma veramente tutte queste merdate ma condo pacco vediamo un attimo se almeno qui la bandiera almeno la bandiera qui almeno qui la bandiera mano data a di dell'inter celsi william no pedro 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 anche io guida ma che cazzo stava di pedro è buono pedro è buono perché vale qualcosa dovrebbe vale qualcosa infatti prendiamo anche lui e basta tutto il resto lo vendo probabilmente voi non ci starete capendo praticamente il caso di questo video ma il titolo qualcosa va da un po di una piccola mano velatara infatti salve a tutti ragazzi eccoci qualità di questo nuovissimo video infatti come vedete oggi andremo a fare un po di ignoranza nella ruota 2 division 1 prepariamo a scalare la settima divisione ovviamente facendo solamente tre partite con questa magnifica squadra che per carità è sempre la stessa ma è comunque una magnifica squadra una forma fisica non gli serve ve l'elenco un po aggiornata rispetto alla miglior squadra 40k infatti al posto di emre chan abbiamo bakayoko vi elenco solamente i nuovi acquisti poi come portiere al posto di hart abbiamo ederson e poi al posto di kin abbiamo sanchez se non mi sbaglio ti chiami sanchez quindi andiamo a giocare il primo avversario perché andremo a fare un po di ignoranza cerchiamo di vincere cerchiamo di fare punti cerchiamo di giocare a calcio ecco ma una bella squadra per dire che in divisione 7 ha sciopato un bel po perché c'ha De Gea, Piqué, Marcelo, Casemiro c'ha una mezzaliga con Mertens in attacco, Hazardi in attacco non capisco però ha una bella squadra per essere in 2017 qui quando si spendono i soldi su fifa se non sempre belle squadre ma vediamo un attimo chi è che vince intanto vi ricordo visto che appena iniziata la partita di lasciare un like e di iscrivervi al canale se ancora non avete fatto di poter vedere il video su facebook e instagram e di seguirmi se volete sia sulla pagina ufficiale di facebook sia sul mio profilo instagram vi lascio tutto in descrizione ovviamente come sempre anche il link del mio grafico è ma qui 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 colgo il glitch che cazzo vuoi fare frate eh ui 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 tre minuti tre minuti dobbiamo fare gli ignoranti lo stiamo facendo perché appena ha subito un gol attenzione guie guie easy peasy lemon squeezy uu 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 e il capitano questo è molto forte ma ragazzi ma che cazzo vuole fare questo dopo quattro minuti abbiamo fatto un gol che se lo ricorderà per gli annali attenzione attenzione macchiazione tira il volo no tira capitano tira capitano e dai ecco non ci credo sto coglione di cimi vardi se entrava quello il 45esimo non gli fa fare il gol il 45esimo pur di momento non gli ha regalato il gol non si sta meritando il pareggio questo ci sta da dire ovviamente e non si merita la vittoria infatti il primo tempo lo finiamo in pareggio brutta testa di cazzo che poi che nome di merda ciao roro noas tanta roba tanta roba iniziamo il secondo tempo cattivi cattivi molto cattivi nella speranza di fermare un gol cosa almeno me la posso maneggere un po' di più tirare da fuori aria fare qualche numero altrimenti poi non mi diverto battiamo questa punizione dai quanti metri 32 metri ragazzi mi esce il gol da qui se mi esce il gol da qui non mi esce il gol da qui non ci credo non ci credo non ci credo che cazzo fai parti da lei oh perché non rovesci momo 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 che cosa ti sei mangiato momo ma veramente ma uh 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 non ci credo e chi cazzo sei superman che mi pare anche questi tiri da che chi cazzo sei superman vediamo un attimo bellissima finta ma che ma che cross sì barbi ciao attenzione è partito momo è partito momo ma che te due a uno due a uno come umiliare un avversario tenendo momo salali per terra vaffanculo te due a uno mamma mia qui l'abbiamo l'ho preso proprio il culo perché l'ho fatto andare marcello in porta da ghia fuori e ho segnato due a uno abbiamo vinto solo per i primi tre punti di oggi merito un like ma infatti ve lo dico voglio un like subito adesso guardate che maglia ho messo che maglia ho messo da buon ignorante la maglia del benevento e vediamo chi è il nostro prossimo versione del secondo che ha una bella squadra ha una bella squadra un 179 francese rigorosamente francese con ruffia in porta marchignos pastore fichir falcao fabigno gustavo che fa cagare cruzawa bella squadra bella squadra volevo prendermi io zil per questo video nella per fare le ultime due partite ma i soldi non me l'hanno permesso perché mancano quasi 8k sti gran cazzi 1 a 1 scusate se non vi ho fatto vedere il primo video ma non c'ero in camera e quindi mi hanno sento ma sicuramente vi ho lasciato il gol senza la mia webcam che non c'ero io quindi mi sono dovuto spostare e sono riuscito a pregiare proprio adesso grazie al cazzo questo qui è una sega mi ha segnato perché non c'ero io missa la bella adesso ti rompo il culo 2 a 1 2 a 1 da inizia a quitare per favore dai che ho tempo da non ho tempo da perdere che devo registrare non ci credo non ci credo mi ha tolto il pallonetto sto bastardo mi usciva un gol del genere mi usciva un gol del genere chiudevo internet poof 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 vediamo se funge 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 mamma mia buona doma 3 a 1 tanta roba non ci sta capendo un cazzo il tipo perché se gli faccio tutti quei giochetti in area di rigore ma non riesce a prendermi il pallone non ci sta capendo un cazzo mamma mia proviamo a fare la dub che io non so come si cazzo si faccia ma questo qui cosa che fa ta 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 eeeh eeeh alla griezmann idris a guai doppietta per lui ma questo era un bel gol però eh mamma mia che mischino mamma mia che mischino però le faccio i complimenti perché c'è riuscito a farmi due gol soprattutto uno della merda così almeno è contento mi ha fatto due gol però un culo se l'è presa comunque ma te la sei presa comunque fratelloni perché qua palla non ce n'è non ce n'è 4 a 2 vinta 2 vittorie tanta roba questo invece mi ha rubato lui la maglia del benevento quindi ho dovuto usare quella del jank vediamo che squadra ah questo ragazzo una bellissima serie A ma veramente bella con tantissimi giocatori tra cui Guain eeeh Immobile che non so se sia Ifo si quel cazzo che è Albi Bala Amatudina Ingolan Chiellini Manolas Sandanovic Alexandro Miriković Lince Steiner c'ha di tutto e di più ma non la vittoria abbiamo anche l'arbitro negro che ci assiste oh finalmente sono riuscito a dirlo in questa partita vediamo un attimo senza fare il gol glitch mamma mia che difensore che c'hai oh gli ha già munito un giocatore cioè Milinkovic sta facendo il coglione eh eh ma tu di sta a te calmo un po' colpa mia lo ammetto lo ammetto colpa mia l'ho voluto io ragazzi si è fatto fare tre ammunizioni in 24 minuti non sto scherzando tre ammunizioni 24 minuti non non conosce il il contrasto normale questo ragazzo qui quindi ovviamente si fa fare una barca di di gialli vediamo se eh eh anche di bala si è fatto a munire buono non so se riesce a concluderla sta partita io mi sto veramente fisciando delle risate perché ogni cosa che fa è un fallo eccolo rigore si è fatto fare anche il rigore ehm l'ha conquistato Salah però a me Salah non piace come rigorista ehm di conseguenza lo facciamo battere a a a Ederson vaffanculo lo faccio battere a Ederson tanto che non ci credo Ederson Ederson ma che gol ma che gol ma che gol 1 a 1 eh vabbè gol glitch gol glitch aiutateli il videogiocatore di FIFA lasciare palla cilio immobile madonna puttana ladra che coglionata oh stiamo facendo vincere uno che si chiama Erta Berlino no Erta Vernello scusate come titolo e poi ti fa vedere anche il gol Erta Vernello si chiama Erta Vernello questo è di Roma sicuro al 200% guardate che cazzo mi ha tolto guardate che cazzo mi ha tolto guardate che cazzo mi ha tolto me la sto veramente non vaneggiando di più perché lui comunque è trascipolata per qualsiasi cosa se è così vogliamo dire guardate lì cioè è trascipolata anche quando la mamma sta morendo quindi cioè guardate quindi un po' me la sto vaneggiando anche io cioè cercare di fare i pallonetti Tegran guardatelo ho fatto entrare Musa perché adesso gli ultimi dieci minuti me la faccio un po' più ignorante cioè tanto ormai è persa i due gol è impossibile riesco a farli perché dovrebbe mettere ultradifensiva non dovrebbe fare scivolate quindi adesso va a fare un culo tanto tre punti li ho persi che cazzo è Alexander raga bagato nel buco del culo fortissimo e comunque non ci credo non ci credo in fuorigioco 3 a 2 comunque se l'è preso ufficiale il 3 a 2 se l'è preso e vabbè non fa niente ma chi cazzo se ne sbatte abbiamo perso una partita su tre comunque 3 a 2 neanche di molto alla fine Musa è entrata a posotto subito come se nulla fosse alla fine lui mi ha fatto un tiro in più non è che abbia fatto molto comunque abbiamo un bello storico con 5 cioè riesco ancora a salvarmi tranquillamente siamo anche a 42.000 crediti che non è male non è male quindi vi dico che per questo video è tutto lasciate le like se non avete fatto Facebook Instagram in descrizione venerdì non so che video fare però vi lascio in descrizione ci vediamo bella qui